cari amici che come me state dalla parte della innovazione un saluto da nato russo oggi vorrei conversare con voi di telemedicina e tele diagnosi la pandemia ha drammaticamente messo la popolazione di fronte allo stato di parziale inadeguatezza del servizio sanitario quello basato sui diversi ruoli del settore pubblico focalizzato sulla necessità di curare il meno possibile per risparmiare risorse e del settore privato focalizzato sulla necessità di curare il più possibile per reggersi economicamente in piedi l'uso della telemedicina della tele diagnosi della consegna dei farmaci a domicilio della chirurgia robotizzata da remoto fa ripensare globalmente ai sistemi di prevenzione di cura e di degenza accanto a situazioni avanzate di estrema specializzazione triage intensive isolamenti eccetera devono essere recuperate per anziani e lungodegenti strutture di ospitalità alberghi ostelli dormitori case vacanze colonie eccetera la sanità pubblica deve tornare ad essere assolutamente gratuita ma per evitare abusi e sprechi le spese mediche ed ospedaliere dovranno essere anticipate dal paziente che potrà accedere a prestiti a tasso agevolato e successivamente detratte dalle tasse con meccanismi temporalmente certi di restituzione o compensazione chi desiderasse optare per la sanità privata potrà interamente redurre gli importi delle polizze assicurative dalle tasse ma passiamo alla telemedicina e alla telediagno esse offrono una serie di vantaggi significativi ma presentano anche alcuni svantaggi incominciamo dagli aspetti positivi intanto accessibilità migliorata perché la telemedicina permette di superare le barriere geografiche e di accesso consentendo a persone in aree remote o con limitate risorse sanitari di ottenere consulenze mediche diagnosi senza dover viaggiare o spostarsi poi risparmio di tempo ed energie eliminando la necessità di recarsi fisicamente presso un ambulatorio o un ospedale la telemedicina riduce i tempi di attesa e i disagi associati agli spostamenti gli utenti devono consultarsi con i medici direttamente da casa o dal luogo di lavoro risparmiando tempo e sforzi poi accesso a specialisti in alcune zone rurali o remote potrebbe essere difficile trovare specialisti medici locali telemedicina permette ai pazienti di ottenere consulenze specifiche anche se non sono disponibili fisicamente nella loro area consentendo loro di ricevere cure di alta qualità senza la necessità di spostamenti molto lunghi e naturalmente una forte riduzione dei costi perché la telemedicina può ridurre i costi sanitari per pazienti poiché le visite virtuali possono essere meno costose rispetto alle visite in presenza inoltre può ridurre anche i costi per il sistema sanitario nel suo complesso in quanto diminuisce le visite inutili agli ambulatori e le ospedalizzazioni non necessarie ma non possiamo tacere anche alcuni svantaggi per esempio la limitazione nella diagnosi fisica la telemedicina si basa principalmente sulla comunicazione audio e video ma non consente al medico di effettuare un esamico fisico completo come nel caso delle visite in presenza alcune condizioni potrebbero richiedere un esame fisico dettagliato per una diagnosi accurata e la telemedicina potrebbe essere limitata in tal senso difficoltà di accesso alle tecnologie perché non tutti hanno accesso alle tecnologie necessarie per partecipare a una visita medica virtuale la mancanza di dispositivi di una connessione internet stabile può ostacolare la partecipazione a consulenze e diagnosi online e poi problemi di privacy e sicurezza dei dati perché la trasmissione di informazioni mediche tramite canali digitali può comportare rischi per la privacy e la sicurezza dei dati è fondamentale adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere le informazioni sensibili dei pazienti durante le interazioni online ed infine limitazione nella gestione delle emergenze perché la telemedicina potrebbe non essere adatta per la gestione immediata di emergenze mediche gravi in situazioni di vita o di morte può essere necessario un intervento medico in presenza per fornire cure immediate ed essenziali bene per la telemedicina è tutto un saluto da nato rosso a presto per la telemedicina è tutto un saluto da nato rosso a presto a presto